Maurizio Beretta, consigliere comunale di Ferentino, dove nelle ultime ore è montato un caso. La squadra di calcio doveva giocare in casa, invece sarà costretta a giocare la propria partita interna al comunale di Supino. Che succede? Partiamo innanzitutto dal fatto che c'è tanta delusione in città su questo fatto, tanto che molti concittadini hanno alzato l'attenzione su questo fatto, sulla delusione di tutto ciò. Succede che nello stadio comunale di Ferentino, dove c'è una gestione privata di questa struttura pubblica da parte del Ferentino Calcio, c'è la convivenza con tutte le società del frusione di calcio che non riescono più a contenere tutte le attività sportive che si fanno. Chi è che ne paga le conseguenze di tutto ciò è stato il Ferentino Calcio, che è stato innanzitutto relegato in orari assurdi anche per quanto riguarda gli allenamenti. Per domenica l'assurdo è che deve giocare una partita casalinga, non nel suo glorioso stadio, ma in una città limitrofa, proprio questo è il fatto. Succede che ormai quella struttura di fatto è privatizzata, anche se l'attuale gestore, che è il Ferentino Calcio, non ha la gestione esclusiva di quella struttura, potrebbe essere utilizzata anche da altre realtà associative del territorio, di calcio, di altri sport, così come per il fatto della pista d'atletica, che è diventata inaccessibile, diciamo in parte in orari assurdi da parte della cittadinanza, quanto il Consiglio Comunale di Ferentino si è espresso per ben tre volte sull'accessibilità della pista d'atletica. Questo sta succedendo a Ferentino, nel senso che le strutture pubbliche sportive della città stanno diventando inaccessibili ai più, quindi solo alla gestione di poche ristrette realtà che ne stanno facendo una questione prettamente economica e non più di carattere sociale e sportivo. Ecco, c'è una soluzione in futuro? La soluzione è chiara, cioè l'idea che ho proposto più volte in Consiglio Comunale e quella di riassumere le strutture in capo all'amministrazione comunale. Premettiamo il fatto che per quanto riguarda il frusione di calcio, quindi della prima squadra, la squadra di Serie A, non ci sarebbero problemi perché hanno uno spazio ben preciso, riservato, quindi non si intracciano le situazioni pubbliche con il frusione di calcio. Quindi l'idea era quello di riassumere le parti pubbliche in capo al Comune e di regolamentare a questo punto l'accesso delle strutture, ma questo anche per il palazzetto, cioè è assurdo insomma che ci sono realtà tipo, ricordo il calcio femminile di Ferentino che era costretto a giocare fuori, la palla a volo che gioca lì, quando magari le cari ufficiali le potrebbero fare al palazzetto dello sport, come per quanto riguarda il campo sportivo dove le cari ufficiali le potrebbero fare lì tutte le squadre di Ferentino. Questo è il senso, trovare una soluzione diversa, investire anche su altre strutture, è ora che insomma si torni a ridare le strutture pubbliche alla città, questo è il senso dell'operazione.